Il codice necessario per sbloccare i digi-content del tuo libro è l'ISBN della tua guida docente. Prendi la tua guida e guarda il retro della copertina. In basso è riportato il codice ISBN composto da 13 cifre per sbloccare i contenuti del testo. Siamo pronti? Partiamo con l'attivazione. Come prima cosa collegati al sito www.lascuola6.it ed effettua il login selezionando l'icona nella barra in alto. Se non hai ancora effettuato la registrazione, procedi prima di tutto cliccando sulla voce Registrati e compila tutti i campi richiesti. Una volta inserite le tue credenziali, il portale ti riconoscerà e ti mostrerà il messaggio di benvenuto. Ora il tuo login è attivo. Prosegui selezionando la sezione Supporto e attivazioni e clicca sulla voce Attivazione libro docente. Nello spazio Attiva i tuoi digi-content, clicca su Attiva ora. Si aprirà una schermata attraverso la quale sarà possibile cercare il proprio testo. Digita il titolo e via via il sistema ti proporrà una serie di opzioni. Seleziona l'opera che vuoi attivare cliccando sopra l'immagine della copertina e inserisci nell'apposito spazio il tuo codice guida. Ti apparirà un messaggio di avvenuta attivazione e potrai consultare subito i materiali digitali. Scegliendo l'opzione Vai ai contenuti. Cliccando su questa voce, infatti, sarai reindirizzato ai digi-content della tua opera e potrai iniziare a utilizzare tutti i materiali per la tua didattica. Per i futuri accessi, ricordati di fare sempre il login. I tuoi contenuti rimarranno sempre attivi e accessibili dalla scheda catalogo del libro o dalla tua scrivania personale. Buon lavoro con i contenuti dei libri La Scuola 6!